Trattandosi di un gruppo di non terrestri, provenienti dal primo pianeta della stella Vega, distante 25 anni luce, siamo molto evoluti e sappiamo riconoscere chi ha materia verde che scorre nelle vene, dunque state attenti terrestri. Per questo motivo, è fatto di vieto ai non-vegamiani di avere un avatar vegamone. Tutti coloro che ignoreranno tale regola fondamentale del gruppo, vedranno i loro commenti dissolversi per le vie dell'universo e verranno bannati.